Ogni giorno il nostro cervello è inundato da milioni di informazioni, troppe rispetto a quante potrebbe processarne correttamente. Se dovessimo soffermarci a valutare e ad analizzare, sempre tutto prima di prendere qualunque tipo di decisione, rimarremo totalmente paralizzati. Per questo la nostra mente crea delle scorciatoie. Hanno ovviamente dei pro e dei contro. Analizziamo l'insieme e prendiamo le consapevolezza. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like. Secondo Albert Einstein è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Aforismo un po' estremo, ma di indubbia efficacia. Tutti noi, sebbene ci risulti estremamente arduo a metterlo, siamo intrisi di pregiudizi. Di ogni tipo. E non parlo solo di macro-pregiudizi che mettono in discussione la morale e l'etica, ma di una miriade di piccole cose che mettiamo in atto in automatico. Perché sono state stabilite e decise una volta per tutte e poi mai più messe in discussione. Se ci rifletti un istante, durante il corso di ogni singola giornata, per tutta la vita, siamo letteralmente bombardati di informazioni, di notizie. Dobbiamo prendere un'infinità di micro-decisioni in continuazione che non ci consentono di riflettere. E questo è il motivo che porta il cervello umano a ricorrere dalle strategie cognitive per essere più veloce, risparmiare tempo e fare meno fatica. Esistono delle vere e proprie scorciatoie mentali che soddisfano pienamente queste esigenze. È vero che queste scorciatoie sono molto utili al nostro cervello per fare preziosa economia cognitiva, ma è altrettanto vero che queste scorciatoie molto spesso lo portano fuori strada, facendoli inciampare in un susseguirsi di errori di ragionamento e di valutazione che prendono il nome di bias cognitivi. Ma quante volte cadiamo in errore senza rendercene minimamente conto? La risposta è un'infinità. Potremmo sbagliarci su piccole decisioni innocue, ma anche cadere in errore in situazioni delicate ed importanti. In ogni momento della nostra giornata potremmo farci ingannare dal nostro cervello senza rendercene conto. Di fatto i bias cognitivi si innescano ogni singolo giorno. Più volte al giorno! Ogni minima decisione potrebbe essere minata da un bias cognitivo. Eppure, nonostante il loro margine di errore, i bias cognitivi non sono un optional. Infatti i bias cognitivi riguardano tutti, ma proprio tutti! Perché il cervello di ogni essere umano è governato da precisi meccanismi psicologici che funzionano allo stesso modo per tutti. In particolare esistono due regole che stanno alla base del motivo per il quale subiamo gli effetti dei bias cognitivi. La prima regola è il risparmio di energia e il nostro cervello vuole a tutti i costi risparmiare energie cognitive e vuole lavorare senza far fatica se possibile e questo spesso fa sì che il cervello decida di prendere delle scorciatoie. Può sembrare una strategia intelligente, ma in realtà queste scorciatoie, chiamate euristiche, portano a degli errori, i bias cognitivi. Sicuramente su questo fronte non è d'aiuto la seconda regola che sta alla base di questi meccanismi psicologici, ovvero la rapidità. Il cervello, oltre a voler risparmiare le energie, vuole portare a termine i suoi compiti il più velocemente possibile e quindi questa è la situazione. Il cervello sbaglia strada a causa della scorciatoia errata e in più, come se non bastasse, la percorre anche troppo rapidamente, perdendo così le ultime possibilità di rimediare in corso d'opera. Il numero di bias cognitivi che ogni giorno possono innescarsi nel nostro cervello è veramente vastissimo. Esistono decine e decine di categorie di bias cognitivi e ogni essere umano, per quanto possa ritenersi intelligente, razionale e logico, ogni giorno ne subisce le conseguenze. Potenzialmente ogni nostra decisione, purtroppo anche quelle più importanti, potrebbe essere rovinata da un bias cognitivo. Esistono centinaia di bias cognitivi diversi ed esistono diverse modalità secondo cui è possibile suddividerli. Ecco due dei metodi più efficaci. Il primo è quello di dividerli in categorie secondo cinque macro insiemi in base a questi criteri. Bias di giudizio, bias della memoria, bias della motivazione e del desiderio, bias di decisione, bias individuali o di gruppo. Oltre a questo primo metodo, è possibile raggruppare i bias cognitivi utilizzando un'altra strategia orientata alla causa che fa innescare gli errori cognitivi. Si tratta di un metodo molto più pratico e decisamente più utile per sviluppare una visione sistemica di come funzionano i bias. Esistono quattro cause e dunque quattro categorie. Sovraccarico di informazioni. Quando i dati che il nostro cervello deve processare simultaneamente diventano troppi, l'unico apparente modo per uscirne è quello di intraprendere un'altra strada. Una scorciatoia per l'appunto. Ed è in questi casi che poi nella maggior parte delle volte si innescano dei bias cognitivi. Mancanza di dati e di informazioni. Allo stesso modo, una quantità insufficiente di informazioni induce il cervello ad interpretare e ad integrare i dati che ha a disposizione. Spesso fallendo nel tentativo di uscirne indenni. Necessità di agire in fretta. Il cervello, si sa, è piuttosto pigro. E quando il gioco si fa duro ed è necessario accelerare i ritmi, spesso tenta di barare. Magari tagliando la strada. Ma finendo impantanato in qualche ragionamento fallace. Scelta di quali dati ricordare e quali cancellare. Che cosa dovrei ricordare? Si chiede il cervello. È una domanda potente e pericolosa. Il cervello, infatti, tende a distorcere i propri ricordi e modificare gli avvenimenti passati e già terminati. Esistono molte categorie diverse e centinaia di tipi di bias cognitivi. Seppur appartenenti tutti alla macro categoria dei bias, ognuno di essi ha delle caratteristiche uniche che lo contraddistinguono da tutti gli altri. E per questo non è possibile stilare una lista unica di azioni valide in generale da poter applicare a tutti i bias. Ogni bias rappresenta un pericolo unico nel suo genere. Pericoloso per il nostro cervello ma addirittura a volte pericoloso per la nostra vita stessa. Tutti i bias sono degli errori cognitivi ma ognuno è unico nel suo genere ed alcuni sono più pericolosi di altri. Ma c'è una buona notizia. Per ogni bias esiste una rispettiva strategia che possiamo mettere in atto per evitare che generi conseguenze spiacevoli in noi e in chi ci sta accanto. E se da un lato è vero che ogni bias va trattato in modo specifico è anche vero che il primo step obbligatorio in cui fare tappa per poter registrare i bias cognitivi è universale e valido per tutti gli errori. È la conoscenza. Quando conosciamo un bias possiamo riconoscerlo. E più lo conosciamo bene e più è facile riconoscerlo. Addirittura ancora prima che si inneschi. Così da poter iniziare sin da subito a riconoscerli e a gestirli strategicamente. Ma i bias sono sempre negativi? No, anzi. I bias cognitivi, fra le altre cose, sono quei meccanismi della mente umana che ci hanno portato sino a qui, oggi. E senza sarebbe stato tutto molto più complicato, probabilmente impossibile. Uno dei motivi principali per cui i bias cognitivi sono utili è legato ai concetti di evoluzione e di sopravvivenza. In situazioni pericolose nelle quali si ha veramente pochissimo tempo per riflettere è fondamentale avere un cervello che sia in grado di processare i dati con grandissima rapidità. Pensiamo semplicemente come ai nostri antenati fosse sufficiente l'istinto di sopravvivenza senza ulteriori valutazioni. E oggigiorno, come allora, alcune volte questa nostra caratteristica si rivela altrettanto fondamentale. In altri video approfondirò tantissimo l'argomento e ti spiegherò nel dettaglio i bias più comuni e come sfruttarli a nostro vantaggio. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile. Per favoreulTION E' sicuro! Per favoreכול Per favore può essere Grazie a tutti.